Hai visto? Oh, perché ogni volta sta webcam deve fare i capricci? Cioè, non lo capisco. Ma qua intanto leviamo sto filo che mi dà fastidio. Le cuffie belle così. Eh, non le ho comprate per nulla le cuffie wireless. Ciao, Robby! Stasera si mangia, sì, stasera si mangia poltiglia, si mangia poltiglia di zombie. Stasera si mangia, sì, si mangia poltiglia, poltiglia di zombie. Una bella, una bella frittura mista di zombie. Easy. Allora, vediamo dove mi ha salvato. Perché io ho fatto un po' di roba, in realtà, se devo essere onesto. Ho fatto un bel po' di roba off camera. Infatti, se vi faccio vedere... Ecco, ho esplorato, diciamo... Buona parte, comunque, anche della seconda cittadina. Anche se qua ancora non ci sono entrato, non ho fatto niente perché... Diciamo, mi sono lasciato un po' da parte tutte le altre cose. Qui dobbiamo continuare, praticamente, la nostra missione. Cioè, devo continuare la storia. Anche perché spero, a breve, di poter ottenere il rampino. Perché, teoricamente, lo dovrei ottenere in questa zona il rampino, quindi... Quindi spero, effettivamente, di ottenere il rampino per poter fare Spider-Man in giro per la città. Vedo l'ora, se devo essere sincero. Tanti vibes, come il primo Dying Light. Che, tra l'altro, ho notato che qualcuno... Che qualcuno lo sta guardando su YouTube. Cioè, ho visto che, praticamente, i video... Di Dying Light 1... Stanno facendo delle buone visual su... Su YouTube. Quindi, magari, qualcuno se lo sta recuperando. Perché mi appaiono... Appunto, mi appaiono... Le visualizzazioni di... Di Dying Light 1, quindi... Quindi vuol dire che, magari, c'è qualcuno che, effettivamente, si sta facendo il rewatch del primo e del secondo. Allora... Ah, no, da qua posso salire. Ok, perfetto. Dai, ero col paracadute. Vabbè. Mi fa salire fino in cima, sì. Ok. E c'è una side quest, accettiamola. E poi... La farò in seguito. Hmm... Yes. I could definitely paint you. The greatest work? What's that? But... I... Red? Yes. The reddest. Without the reddest red. Of course. I could... Let's hear it. Oddio. Dei marci. Il rosso più rosso. Vabbè, sicuramente... Cos'è quel pallino bianco? È la side quest? No. Sì, vabbè, sì, probabilmente... Probabilmente è quello della... Della side quest, ma... Side quest ovviamente non ne facciamo durante la... Durante la live. Side quest saranno un qualcosa che mi farò io poi per conto mio. Sì? Chi pensava che sarebbe capace di matare un pk? Qua ci sono altre strutture. Ah, ecco, sì, vabbè, c'è un rifugio e... E qua c'è un qualcosa. Eh, vabbè, fin quando si tratta di scoprire le strutture... In realtà... Le vorrei scoprire. Ah, ma da qua, vedi, si sale. Sì, ci sono i cosi. Eh, ma da qua posso salire? Sì. Sì. No, no, non le posso fare le side quest in live. Veramente si perde... Si perde troppo tempo. E poi siccome è anche una serie che sto ricaricando contemporaneamente su YouTube... Eh, oddio, qua c'è qualcosa di raro. Una nota. Eh, siccome è una serie che comunque sto ricaricando anche su YouTube... Ovviamente... Devo cercare di condensare... Devo cercare di condensare tutto. E fare... E fare comunque un contenuto... Un contenuto... Diciamo, corretto, giusto, ecco. Mettiamola così. Ma in tutto questo... Qua doveva esserci... Ah, ecco, da qua si sale. Ah, ma questi saranno i rifornimenti del Paracadute. No, ancora non sta uscendo Dying Light 2. Allora, il secondo capitolo, questo qua, ancora non sta uscendo su YouTube. Perché lo sto aspettando di caricare. Cioè, sto aspettando di fare... Più puntate. E poi... Le carico tutte in una volta. Ho già montato il primo, il secondo, il terzo episodio. Questo sarà il quarto. E poi piano piano... Li caricherò sul... Sul canale. Però per il momento non li sto... Non li sto caricando perché non c'è motivo. Sarebbe una serie incompleta e non mi va. Non ho idea in quanto lo possiamo finire. Perché... Diciamo che la storia principale... Non è così pesante. Cioè, nel senso, non dovrebbe durare tantissimissimissimo. Però ci sono anche tante cose, diciamo... Secondarie. Che... Che comunque vanno fatte. E quindi... Là si perderà sicuramente un po' di tempo. Esegui il balzo finché... Tieni premuto L3 mentre corri per aumentare l'autovelocità. Ah, ecco. Questo qua è lo sprint ancora più forte. Sì, sì. Ottimo. Allora, ok. Adesso possiamo andare... Verso di qua. Allora, qui abbiamo anche un altro rifugio. Penso che sia... Ecco, questo è il fisciai. Che sarebbe... Esatto. Dove c'è il negozio. C'è il Master Crafter. Quindi ottimo. Sì, sì. Questo è ottimo. Devo vedere se posso potenziarmi qualche cosina qua. Granata fai da te. Eh, questo sarebbe carino. Me lo compro. La granata fai da te è buona. Lama infetta. Non mi interessa. Frecce infuocate. Questo sì. Assolutamente sì. Frecce tossiche. Frecce infette. Squarcio. Applica l'effetto sanguinamento a un nemico di fronte a te. Facendo diminuire lentamente la sua salute. Buono. Mi piace. Veleno e acido. Ci sono dei bei potenziamenti in realtà. Va bene. Per il resto va bene così. Negozio? C'è qualcosa? Uh! Armi di livello 5. Madonna. 135. Finchia. Questo è un mostro. Però costa 2025. Possiamo vendere le cose rare. E ci arrivo. Ok. Questa la prendiamo. Perfetto. Eh, le armi adesso... Tra l'altro sono arrivato addirittura a livello 5. Cioè talmente... Talmente ho esplorato. Talmente sono andato avanti con l'esplorazione. Tutte le altre robe che... Cioè che sono arrivato... Sono arrivato a sti livelli. Allora, qui c'è un rifugio però. Dove è sto rifugio? Ah, non è il rifugio, è la stazione. Ah, quindi qua ci sarebbe un teleport se l'attivo. Eh, minchia, però questa qua la dovevo fare di notte. Madonna, il teleport qui è fighissimo. Eh, vedi, a saperlo l'avrei fatto anziché esplorare... L'avrei già fatto a quest'ora. Per avere anche solo il teleport. E qua comunque poi... Il teleport nelle varie aree è comodo. Qua per esempio l'ho sbloccato. Qua l'ho sbloccato. Perché in ogni cittadina praticamente ci sarà il teleport. Per cui... Questo è sul tetto. Quindi sarà qualcosa di particolare. Eh, vabbè, queste saranno tutte cose che poi mi farò per conto mio. Vai, ora datemi il rampino e mi fate felici. Mi manca solo il rampino ormai. Dopodiché posso fare Spider-Man... A motore. Domani probabilmente voglio recuperare Final Fantasy 7. Luan? Luan, sei qui? Luan? Oh merda. Minchia, devo parlare con tutti? Luan? Ma ora riuscate il cuore. Ma ora riuscate ii? Luan? Vabbè? 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 Vi senti che abbiamo una discussione? Tu sei la pacekeeper, eh? La Wann, sei sicuro che sai cosa fare se hai avuto il tigre con il cuore? Comunque, lei probabilmente è fuori nel campo, ma puoi chiederti al bar Hai visto La Wann? Ovviamente, lo vedo sempre Oh, aspetta, ti vuoi dire come oggi? Scusate, Dio mi ha messo in tutta l'esperienza In tutta questa emozione, eh? Emozione di che Scusate, Dio mi ha messo in tutta l'esperienza Emozione di tutta l'esperienza di tutta l'esperienza Oh, really? So, good or bad things? Mi ha parlato praticamente la lingua degli dèi. Rifiuti con un gesto, raggiungi l'obiettivo. Allora, io in realtà per ora sto collaborando con i pacificatori, però va bene. Ci posso stare alla fine. Allora... 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 Non capisco perché a volte salta il video. Noi... Ah... Non capisco perché? e ricordati, perché è Frenk. Ci sono rispettati lui, perché era un giocatore. Tutti qui qui ha accettato lui qualcosa, anche io. Se non fosse per Frenk, non sarei qui. E dove sarei? In una zona scura, come un uccionista? O in qualche città, che si è accettato? Frenk potrà aiutare. Tu puoi confettare anche su lui. Confio in me. Sì? Let's go. Oh, come and find me, Ravik. Oh, come and find me. Frenk! They slaughtered us. One by one like f***** rabbits. Frank? Frank? It's me. Wake up. You? What the f***** are you doing here? Interrumping my conversation with? Ravik's been dead for years, Frank. Pull yourself together. You gotta visit her. And who's that? Queen of f***** England? I gotta act old dain-y now. This is Aiden. He has a GRE access key. Waltz used it to turn on the electricity in town. Working GRE key? You're full of sh**. Show it to him. Where'd you get it? From one of Waltz's men. So you wanna watch his men too? Hey, easy, Frank. Aiden is on our side. We think this contains data proving what they did to us in the hospital. So you still believe you'll find out why Waltz f***** up your childhood? Okay. I'll tell you. Ready? Yeah, because he's a f***** psycho. He's f***** in the head. That's your holy grail and arc of the covenant all in one, Luan. Happy? Aiden, right? You and Luan can get the f***** out of my face now. I got more important things in my mind. It would've worked if that f***** had showed up at the TV station. You were right, Ravik. F***** traitor. Without him we were like kids with slingshots going up against tanks. And I'll see you in the video. I don't understand why. What the f***** did he do? Okay. Is it already started the acquisition? So? A caso? Oh, these sforfalli. We'll see you in outraажу. No. 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 e pronto a vedere se posso magari facendo così posso provare a vedere se così è un po' meglio no è un pochettino ok ora si è bloccato ovviamente allora aspetto comunque vabbè penso che forse adesso è un po' meglio la situazione Luan says only you can help us Luan tends to run at the mouth and you know what it's mostly bullshit she's a junkie I picked up from the street understand you don't believe me ask her she'll tell you everything herself so what the fuck if we got to that floor we were in a pile of shit not even close maybe this tower is not being won it will not be won you understand and we're all gonna fucking die and then it'll be cool you'll shut up too I didn't come this far to let you blow me off like this Frank you came all this way to talk to little old me well how do you fucking door congratulations you're a bigger loser than I am now get the fuck out of here already see this Ravik see this Ravik he can't piss me off almost as much as you shut up that doesn't mean you can talk fuck Ravik stop making excuses for this traitor denying what's happened Frank damn it come back fuck off kid while you're a fucking off take Luan with you I'm done Luan it seems we're done here come on let's go Walt's turned the power on with this key for the first time in years and I doubt he did that out of the kindness of his heart and you don't give a fuck Frank get your shit together you were legend fucking commander of the night runners do you even remember that ah lui era il comandante dei nottamboli why the fuck would Walt turn on the power don't ask me I don't have a clue but if you're looking for the GRE database you need to find a terminal to access it but thing is I I have no idea where one could be and those who knew are probably long dead but the good news is we'll probably be dead ourselves soon enough cheers now get the fuck out of my quarters fucking drunkard a vero bevi anche tu e ubriacone però ubriacone ubriacone you hear that? però fuck something's happening will you check? I'm right behind you it's not possible for god's sake I've seen them we're the peacekeepers for Christ's sake to all units renegades are in the central loop I repeat renegades are in the center they're surrounding the fisheye ah i li negati can anyone hear me? over come out come out or will torta fucking di uomini di waltz minchia qua mi sa che dobbiamo combattere ma minchia li one shot direttamente ma vabbè certo minchia nella storia sono livello 2 sono livello 5 minchia uapela la ahahah ahahah come ho fatto volare mother f*** mh They've put a cannon on a nearby building to the east take it down aided one more hit will destroy the fisheye hurry Sì, sì. Vabbè se li spingo sotto col calcio Gli one shot comunque Non, non ma sono sotto Come on, brother! no ma dove sarebbero comunque questa zona ah eccoli no adesso sta prendendo a fondo dov'è il cannone lì qua lo sapevo che si buttava volevo scendere uno alla volta ciao 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 ragazzi che mi spada me lo fate spegnere ora sto cannone grazie ah ce n'è un altro la ciao ah 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 ahia chi è? ah guarda dove sei il doppio caccio è fenomenale ah vero lei ha la balestra ah è il coso ah no Jack Matt ah sarà il comandante di questa zona ah come on Frank you all right? I saw you fight what's your name? Aiden if it weren't for you a lot more would be dead come on boys search the area sir I have a question we're looking for a GRE database most GRE equipment has been dead for years what do you need this database for? with your knowledge of the city you know GRE places inside out Aiden and I need to find this database will you help us? Lawan he's your friend Aiden? you could say that I've never heard of you Aiden where are you from? I'm a pilgrim I came from outside the walls so you've seen a lot you probably became thrilled Villador too right? all right what do you want to know? a lot has been going on there lately we lost our commander and the bizarre has tried to cut off our power source fortunately they fell and we held our position but the fighting continues we're losing people I also lost contact with the new commander Aitor and his unit ma Aitor è morto no anything about them we found Waltz but he overpowered us and escaped what? where? in the tunnels near the car plant Waltz decimated Aitor's squad I barely managed to escape I shouldn't have left them like this he's the commander what do you want to find out what's going on there? as for the GRE equipment you're asking about you can ask Lieutenant Roe if something's working he'll know about it lately he and his unit have been securing the culvert island and the new dawn park areas but because of the butcher's raid we had to go radio silent so you have to look for him yourself if you find him give him these what are they? orders for him and the other units move it boys let's go come outside and of course we have to talk about it that the bazaar plus the pacificators here in this area are more collaborative than the old zone than the old zone where they were basically declared a sort of 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 a fred where they 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 a volte ciò che ci hanno dato, per farlo così. Più più forte? Più più forte, ma sì. Più più forte e più forte. Probabilmente lo vedo quando mi trovo Mia. Ma cosa prossima? Beh, hai detto tu stesso. Rho potrebbe sapere dove puoi accessere quella database. Ecco, prendere queste ordini a lui. Poi non lo perdere, o Jack mi guida. E tu? E tu? E tu? Ma prima, devo vedere Frank. Tu lo vedi. Ma non lo guarda. Cosa di questo Rho? Rho? È un grande comandante. E un f***ing hothead. Per qualche motivo, le persone dicono che abbiamo molto in common. Una volta, Jack senti il squad a una zona che era una zona dark. La gente panica. E probabilmente non avrebbe avuto là. Ma Rho? 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 Ah quindi non è il vero capo lui? Ah quindi non è il vero capo lui. È diciamo un... un luogotenente. Frank, non è sicuramente la base più relativa di aiuto. Tu non sai di quello che stai parlando. Era un night runner. Anche in questi giorni, non può dire il nome proprio quando è dracca. Non gli night runners' storia di antico? La storia può ripetere. Per bene e per bene. Legende non possono. Dessere lo che vuoi. Io credo che quando il tempo arriva, se il tempo arriva, Frank si riuscirà alla occasione. Chi lo sa? Mi sa che è la zona che ho esplorato. È la zona che ho già esplorato, mi sa. Che era tra l'altro una zona di livello 3, quindi... Io sono decisamente più avanti rispetto... E infatti, proprio è qua, sulla punta della zona... che praticamente ho esplorato. E tra l'altro là c'è anche un rifugio. Quindi potrei sbloccare anche il rifugio volendo. Lo an, io sono neari Colvert Island. Grazie. Frank sorti l'acqua, quindi sono in maniera. Se ti senti Rho a raccogliare dove il termino è, mi sapere. Tu avrai trovare la mia sorella, e io avrei trovare i nomi di amici per la mia chiamata. Tutti sono felici. Ma le persone che si riuscano. Non ci saranno in modo di care. No ho sbagliato Cazzo ho lanciato la granada per sbaglio Vabbè Meno male che non mi hanno sentito Allora io devo andare di qua Sì però io volevo raggiungere qua L'accampamento Perché almeno lo sblocco Che dovrebbe essere quello là sopra giusto sì Ecco vedi qui c'è già il coso Per poter salire Scusa ma il generatore Non me lo fa attivare Scusa è già attivo così? Ma forse l'ho già attivato effettivamente E mi sa che l'ho già attivato Però scusa Il rifugio non dovrebbe essere verde Eh sì vedi qua per esempio è verde Perché qua non è verde? Forse perché ancora non ho sbloccato la zona Ma non penso Perché non me lo dà sbloccato? Vabbè Capace me lo dà Me lo sblocco poi Tanto so come ci devo arrivare Quindi vabbè Llt. Rowe I have orders from the commander I ain't Rowe He went off with a squad to New Dawn Park I'm Llt. Grady Grady Guess I gotta keep going What are you talking about? Show me those orders son Ciao mister We're doing what? We're leaving this outpost? Don't question me You can't hide behind Meyer's skirt out here You're abandoning us? What do we do? We'll be defenseless Go arm the survivors Then we roll If I were you I'd give them plenty of weapons The renegade sent a whole detachment to the fisheye Any other bright ideas, civilian? Just a question Where can I find Rowe? New Dawn Park Like I said Not sure if they made it yet You take these to them And tell them I'm on it Better you than me, buddy Rowe's gonna blow his top When he reads these And I'm here to save lives Not lose mine Yeah Thanks for the tip Assholes We won't stand a chance I'm sorry, civilian But we have orders You can't leave us If the renegades come We'll be dead with the Cioè nel momento del bisogno Se ne stanno andando Bei pacificatori di merda In a day Easy there, civilian Where are you? Fucking idiots Pull the whores out of their ass I know this People are missing things Completely We can live We can live We can live Hey, Luan I'm going to New Dawn Park Apparently, Rowe went there I still don't understand Why the renegades Attack the fisheye They've got their camps But Butcher hasn't attacked the fisheye Since Never Even he respected the nightrunner So No fucking clue What's going on In his head I'm a butcher Tell me more about him The colonel He's the leader of the renegades He gave the order To douse the city in chemicals I'd never survive That's when my parents died I'm sorry I'm not Saw my dad once In my whole life And if mom was good at anything It was drinking She abandoned me That's how you ended up In Waltz's program More or less What happened? I'm a pauper Brought low By my own family Who? Yes My own flesh And blood Have brought me To this dreadful state My own kith and kin How can they be So unreasoning So beguiled By phantasms Woe betide them Woe Are you gonna tell me What's going on? My papa My Dear papa Departed this vale of tears A month ago And His siblings My Blathsome aunts and uncles I spit at them Went mad with grief They Traveled dark paths And Found an infected With the power To raise the dead Ever since They've been offering Valuables to the creature Beseeching it to bring back My dear departed papa They really believe that? Yes They think their offerings Will make the foul beast Grandpapa A new Seems people need something To believe in And what does this Have to do with your poverty? It is all papa's value When I tried to stop them They threw me out of the house I'd go to that altar myself But But you You seem like Well They make offerings You can wait I'll be I'll be She's the only family You got left Let's focus on the job Ok Ok Tough guy Last one there Is a rotten egg Ok Questa la voglio fare Perché si può fare Soltanto in questo frangente Quindi Ai Ai Sì Ma io ho visto anche Uno zombie Uno zombie enorme Che non è bellissimo No Non lo uccidere Mi deve dare la ripompensa Mi sa che l'ha ammazzato Minchia Ok Grazie Ok No Quello è un urlatore Vediamo se mi devo comprare Ora la scheda d'acquisizione Nuova Minchia ci manca Solo sta spesa Già che ne ho fatte poche Però se continuo a fare Sto sfarfallamento Mi sa che mi tocca Prendere la scheda d'acquisizione Nuova Sperare la scheda d'acquisizione Noa Sperare la scheda delle Dottore Dottore Sì, è vero che i ragazzi stanno parlando. durante la notte raccogli gli oggetti ma saranno qua queste purtroppo anche se sono side queste le devo fare subito perché sennò poi non è detto che le posso ritrovare sperano che non mi sia apparso qualche nemico da sconfiggere qualche boss o qualcosa di simile a meno ho ucciso l'urlatore sennò avrebbe fatto partire l'inseguimento non sarebbe stato molto carino merda serve you right you bastard you almost got my brother killed i didn't mean for him to get hurt but he did because of you stop con and others to run your dangerous errands by so much as get a whiff you pull this on anyone else i'm turning you in hey who are you another one of this fool's errand boys whatever i don't give a shit getting out of here what's going on here what was he talking about before the fall i was an actor not even a good one oh bereft of a stage i i took my craft to the streets and became a con artist but i'm not a very good one of those either because i'm still quite poor everything you said about your father your family yeah it was a lie i had to convince you to retrieve those valuables for me the legend of the creature is real well as real as the bandits who invented it to trick people into offering up their valuables i didn't dare go there myself and risk them catching me i'm a greedy lady well at least you're honest about one thing i try you survived the ordeal as for me the curtains go whether tis nobler in the mind or to take arms against a sea of troubles and by a sleep to say we end and well um well if you had a day job i say not to quit it beh molto credibile vabbè posto allora qua dovrebbe esserci un accampamento se non sbaglio che l'ho visto poco fa ecco sì qua quindi posso far arrivare la mattina e così poi posso continuare la missione principale però l'accampamento dov'è questo sì vabbè qua c'è allora qua ci posso saltare ops dove sto andando vedo un cazzo allora qua dovrebbe esserci se non sbaglio la corda che mi fa salire forse aspetta no posso andare anche di qua sì esatto ok ora vedi in questa parte del gioco addirittura mi vengono le convulsioni prima di andare a letto tipo come se mi stessi trasformando sembra quasi infatti la trama sta diventando particolare anche per questo perchè non so se effettivamente non so se effettivamente lui si trasformerà oppure no ci sarà qualcosa sotto legato agli esperimenti che facevano oh Oh, il mio preferito! No! Ero convinto di arrivarci! Non puoi essere qui, figlio! Madonna mia! Qui c'è un rifugio! Vabbè, un nascondiglio per nottambuli, ok, vabbè. Attiviamo. Posso? Leave me alone, please! Hey, I'm looking for Lieutenant Rowe. Have you seen him? Who are you? Why do you want to know? I have orders from Major Matt. Lieutenant Grady said he was here. It'll be okay. Where's your squad and commander? We were making camp when Renegades attacked us. Rowe and the others, they got a few. Then they went after the ones that tried to run. What about you? Couldn't keep up, and lost contact with them. Then another group attacked me. What are they doing here? The Renegades weren't attacking our positions in the center. Oh, fuck! Hey! Still some rats here! Be careful! Hide! Go to hell! Sure! Already leaving! Aren't we gentlemen? Let's get them! Let's go! No, no! F*****g l'ho one shot'ato col calcio. Ok. E gli arcieri li abbiamo fatti fuori. Hai! Guarda me l'ho disintegrato A quello l'ho fatto volare mischino Non è sicuro, puoi uscire Quindi, dove si sta? Il camp è dovuto essere qui sul hotel A la junzione con Newell's Drive C'è un vento in l'interno dell'interno Puoi prendere l'interno Se non potessi tornare ancora qui E' là l'ho trovato Grazie Se puoi tornare a base sui loro, vieni là E non ti lascia di farlo ancora Ok, quindi dobbiamo andare là sotto Ok C'è un contenitore qua Di... Di anabolizzanti Congelato Easy Ce n'era un altro però che ho visto Ma questo non lo posso liberare? Ah si E' di contenitore nearby Quindi deve essere qua vicino No! No! Io non capisco come faccio col salto Ad arrivare oltre la barriera ogni volta Cioè è allucinante sta cosa Inhibitor container detected Cioè se sono sul bordo Arrivo sempre dall'altro lato Cioè è pazzesca sta roba Cioè è pazzesca Grazie Dove minchia è il contenitore 9, 10 metri, 8 Cioè dovrebbe segnarmelo già Ottimo Cioè 4 metri dove cazzo è Intanto questo liberiamolo Ma mi sa che è sopra Eh sarà qua sopra allora Questa è l'ho buttato fuori dal balcone Questa è Non c'è l'ho buttato Ma ho altre 5, 5 dei nostri migliori Barthes ha matato più virali di un unico Sierra e Little Ron Ha 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 Un cazzo di zen di un parco zen Ha 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 Ah l'edificio quello lì E ci sono passato E ci sono passato chissà Ecco lì c'è il forziere del dell'inibitore Mi sa che ce ne sarà uno solo qua Addirittura due Buono Ottimo Buono Ottimo Ed io man mano che mi potenzio sono convinto che mi sto trasformando sempre di più Buono Per loro Tu non dovresti stare qui Aiden Scusate che non hai trovato la tua sista Sì Grazie Tu hai sempre Tu hai sempre Tu hai sempre Il probabilmente sa cosa succederà Se l'ho troppo Ti lascerò Buona luck Gajio Cuidado Luan Ciao Allora io voglio vedere se questo sfarfallio può dipendere effettivamente Anche da un problema di Credo di no giusto Perché credo probabilmente di no Però voglio controllare ora così un attimo Per vedere se magari è una questione di monitor Oh no perché vedi lo fa lo stesso Eh questa bisogna farla Devo aiutare i superstiti Vediamo se magari Anche se tanto non credo Anzi aspetto lo guardo da qua Lo posso guardare tranquillamente da qua Aspetto Questo lo devo mettere qua Che potrebbe anche essere una questione di monitor Non credo giusto però E comunque ho due risoluzioni diverse Due catture diverse Una 4k E l'altra 1080 Quindi Non vorrei che questo sfarfallio dipendesse appunto da questo Perchè se così fosse la soluzione c'è alla fine Ah no ma questo è quello del rosso Guarda cosa ho Oh Ma Pilgrim Ah quindi già ce l'avevo Top Ok Così ho fatto anche questa side quest Nel frattempo ditemi se effettivamente vedete altri sfarfallie Cosa è una copia Cosa è una copia Ma ci sono quelli con l'arco e la freccia Ma ci sono quelli con l'arco e la freccia Ah no Ah si vedi Ah non me l'ha fatto fare bastardo Ai Esatto Ai Perchè Ok Adesso mi sa che dovrei parlare con qualcuno di qua Uccidi i rinnegati Quindi vuol dire che ancora c'è qualcuno vivo Ma ecco Avate a fare un bagnetto Oh Oh Qu'è ci si fa No You can come out They can't bother you now What happened here? We were just working And they attacked Went for our supplies And cut down anyone in their way Yeah, but not everyone The others, where are they? I didn't see anyone else They must have been taken Oh, God Maria Robert They took my friends Allora, aspetta Facciamo una cosa Così Io la chat Io la chat Se non sbaglio La posso portare Evidenzia Perché se non sbaglio Me la potevo portare Però no A quanto pare No Non me la fa portare Da questo lato Allora Allora Aspetta Facciamo una cosa Io così Almeno Lo posso controllare Ok Così vediamo se Come on Have they been attacking Other camps Survivors From the camp To the south Said that they Were attacked today Too They took food And the able-bodied Young men Forced them To join them Apparently We all knew The renegades Are nasty Sons of bitches But They kept Their distance From us Until now Ah ma quindi proprio Questa è una missione Proprio È di addirittura Trovare i rinnegati Cioè è una side quest Fondamentalmente Però Ha della lore Al suo interno Do you want money? I'll give you money Just let me go Just let me go Cioè questi hanno Il covo Praticamente In mezzo agli zombie Fammi capire That survivor Was right Something is really Fucking wrong here I'm at the first outpost There's no sign of your friends Well they must have moved on Toward the camp Further west On Fulton Tower Road Catch them Before they get there I'm on my way No I don't understand They said The renegades Are dangerous But the ceasefire Lasted for years It's 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 Maybe we're about to find out I'll be in touch C'è un'altra side quest Così intanto L'accettiamo Vabbè si andiamo avanti Quanto sono side quest Queste Ok Queste non sono side quest Con la lore Devo salvare il figlio Eccetera eccetera Ok Vieni qua Amico mio Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dai che ci siamo E' là Ecco Questi qua sono vecchi Non c'è nessuno qui Non c'è nessuno Questo c'è nessuno qui Uno dei bambini di G.R.E. E che lavorava per la G.R.E. L'escriviti a parlare di G.R.E. Inizialmente Inizialmente Ok E questo è morto Dai facciamolo cadere Bravo E anche tu sei crepato Non c'è nessuno Stava ammazzando un G.R.E. Allora dai Vieni qua No Non l'ho fatto volare Oh Liscio Oh 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 Aia Wop No Follisciato Si va bene Ha schivato No Vabbè Crepa Sono arrivati Sono arrivati all'accampamento Grazie Ah ma è questo l'accampamento Oh merda Vabbè dai salite Ho capito Buono Sì vabbè ma questo mi schiva a caso Ciao Vedi se li faccio cadere va benissimo Vedi se li faccio cadere va benissimo E' bellissimo come volo Qua sei Quanto è bella sta cosa Poi chi è il prossimo? Ma qua ce n'è un altro Eeeh Olè Poi C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Vedi ti metti dietro l'angolo E poi zacchete E fai il calcio Easy Non hai bisogno neanche di fare le armi Questa è 100 No Troppo poco 100 Minimo 130 Martin Garrix Si vola Ci sono altri forzieri Quasi sono tutti i coltelli Che va benissimo Altri coltelli I coltelli sono ottimi perché Mi fanno fare le kill silenziose Quindi Vanno benissimo Allora io non vorrei dire nulla Ma sto notando Che non sta facendo Sfarfallamenti Però Non lo so Forse Forse è una mia impressione Perché se effettivamente il problema è il monitor La cosa si risolve La posso risolvere Ci sono altri coltelli Che va benissimo Porca troia 85 Assolutamente no Troppo scarso Questo va benissimo Vabbè Vabbè E dove siete spuntati vai Ma sono niente di cannibali Ma sono niente di cannibali Sì Sì sono niente di cannibali Vabbè Cosa hai scoperto la truce? Power, mio amore. Nel nostro stato non strumento, abbiamo una fortuna fortuna. Infinite Power. Waltz, il nostro maestro, ha donato questo Power. Jack Matt e i Puppet Keepers tangenti e strangenti per noi. Powerless. Sono solo un paese di piacere. Grazie per l'offere. Ma sei f*****o. Non capisci nulla. Avetele! Ok. E adesso noi li affrontiamo con il metodo... Oddio. Adesso noi li affrontiamo con il metodo Giappino. Visto? Questo è il metodo Giappino. Easy. Oh, è così. Uhuuu. Forse l'hanno capito e non escono Dai, venite Eh, mi sa che questi li hanno fatto intelligenti Va bene, come volete voi Ok, 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 stanno arrivando, stanno arrivando No Niente, indietreggiano Madonna, Elias l'ho disintegrato Olè, il capo è morto Madonna mia No, ma schivato Vale Posto Niente, ci avevo provato col metodo geppino Però questi qua non mi hanno seguito, quindi Ok, sbloccato Qui non c'è nient'altro, no? Punto abilità Abilità parkour Ecco, questo qua Quello di poter trovare gli oggetti che lanciano È comodissimo Cioè, ora me ne sto rendendo più conto Oddio, mi ha dato una pistola? Eh sì, la pistola Eh, canne esplosive Pistola create corrottami Non durerà lungo Perciò conservala Per le occasioni speciali Sì La pistola Tra l'altro la posso anche creare Però la mia è di qualità infima Quindi Non ne ho create apposta Pala spezzata Ascia di fortuna Quanto avete? 92? 93? No Buttiamole Questo 30 116 118 Vanno bene E Anche se queste sono a due mani Quindi in realtà due mani Vabbè Adesso possiamo andare all'osservatorio Sì che il sistema di combattimento era adattivo Lo so, l'ho letto anche io In realtà Però in questo caso Non pensavo Allora Non penso che in questo caso Sia stato adattivo Dal punto di vista di combattimento Penso che qui sia stato Più un caso di script Ovvero il fatto Che il combattimento È stato costruito All'interno di quella stanza Visto che loro Praticamente mi accerchiano In quella stanza E quindi di conseguenza Io dovevo combattere là Poi sono stato io Ad andarmene fuori A fare la A fare il colpo di Di genio Ma con pochi risultati Ammazziamoli facile Così prendiamo punti Nel frattempo Combattimento Non fanno mai schifo Guata Ok qui c'è un'altra Un altro spiffero Di vento Oh Vai così Madonna non vedo l'ora Di avere il rampino Qua con il rampino Penso si potranno fare Le peggio porcate Contenitore Uh Eh però Aspetta da dove Da questo lato 45 47 No È da questo lato In acqua No il rampino Qua ti viene dato Come oggetto Come oggetto Vabbè in teoria Dovrebbe essere Un oggetto Eh sì ma qua È veramente sott'acqua Il contenitore Ah che bel contenitore Easy Maschera da paintball Di livello 6 Addirittura Oddio di livello 6 Eh però No non è che sia Tanto Tanto buono Qui c'è un rifugio E lo sblocchiamo Subito Ok aspetta Mi sta facendo venire Il dubbio Però il rampino No qua non c'è il rampino Neanche Ah sono passato A livello 6 Ecco perché Quindi adesso Trovo oggetti Di livello 6 No più che altro La curiosità Mi sta avvenendo Per il Qua Perché non è che Me lo danno l'ore Il rampino Vediamo Cavi sospesi Airbag Quei quelli ho letti E non c'erano Cavi sospesi A doppio senso Esatto Qua a prossimo livello Prendo la balestra Finalmente Così dopo aver preso La balestra Posso iniziare a dare Le torri Anche da questo lato Eh la balestra E ho pigas Comunque no Perché Vedi questo è Attrezzo Dei nottambuli Vedi qui ci sono Gli attrezzi Dei nottambuli Quindi Sarà qua Praticamente Il rampino Perché sarà sicuramente Un attrezzo Dei nottambuli Quindi nel momento In cui generò I nottambuli Avrò anche Il rampino E poi Lo potrò sfruttare Come meglio Credo Allora qui No Qui non si salta Vabbè si scendi Tranquillo Il posto Eccoci Ma Ah Questa è tutta Zona chimica Quindi qua Devo fare attenzione È venuta una crisi Giusto Giusto ora Ah mi hanno riportato Hey Cosa è Che è Perché questi qua Sono tutti Cadaveri Mentre io invece Oddio Che madonna Che effetto Che sta facendo La Grandi sviluppatori Questo non è problema di scheda di acquisizione Questo è proprio problema del gioco Scusa dove mi hanno portato? In che zona della mappa mi hanno portato? Che ho tutto Ah Ah guarda qua si stanno espandendo Nel frattempo i ribelli Hanno conquistato questa zona E adesso stanno conquistando questa Mentre invece queste Ancora sono rimaste Porca troia Si stanno espandendo quindi Così i ribelli In questo territorio dei rinnegati Si stanno Quindi vuol dire che qua hanno preso la centrale elettrica O comunque hanno preso Hanno preso possesso delle cose E di qui ci sono tutte cose che devo sbloccare Allora partiamo da questo rifugio A meno questi cerchiamo di farli adesso Allora qui c'è già un luogo sconosciuto Che è una sfida Ok Sfida parkour Ma le sfide parkour Probabilmente mi conviene farle Appena avrò il rampino Ah C'è un faro E un mulino volevo dire What? Ma cazzo ti sei arrampicato Eh si è praticamente Una cosa del genere Madonna mia Disintegrato proprio Dai forza Ancora con st'animazione Abbiamo capito che stai morendo Forza Crema Voglio il premio Ok Grazie Eh minchia Due ore e mezza Se qualcuno ha bisogno di un'automulanza Eh si Lui aveva bisogno di un'automulanza Scusa è qua? Come dovrei arrampicarmi? Non ho un modo Di arrampicarmi E neanche Correnti d'aria Da poter sfruttare A meno che No ma non Qua non c'è un kaiser Devo vedere che qua Dovevo farlo con il rampino Vediamo se me la da come Parapendio necessario Eh parapendio Non Parapendio necessario Ah beh là ci sono le correnti Eccole Eccole Sì Eccole qua Vabbè easy dai Pensavo peggio Ok Questo è dei pacificatori A chi l'ho dato Pacificatori O La fazione Ok Sì la fazione Ok Poi Vediamo cosa c'è qui in zona Perché c'erano altre cose Qui in zona Eh questi sono tutti Luoghi sconosciuti Vabbè questo sarà un luogo Da esplorare di notte Un po' più easy Ah no è un convoglio militare È un convoglio militare Con un Mid boss Eh potrebbe essere interessante Per un convoglio militare Ora che sono a livello 6 Metropolitan Art Gallery Ho scoperto anche No vabbè dai Poi ci vado Ci vado per conto mio Dai è inutile Che mi metto qua A forzare le cose Così poi ho tutto il tempo Di esplorare Fare e dire Però ora li sblocco Così già so dove sono E poi off camera Faccio tutto A me non mi passo il tempo Se no poi non posso fare un cazzo Allora qui c'è un altro luogo E mi sa che questo è una Una disfunzione del gre Un'anomalia del gre Non una disfunzione Disfunzione è un'altra cosa Questa è un'altra Anomalia del gre Ah no forse no 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 mi sa di no Questo è un centro notturno Sì Il negozio è abbandonato Poi C'è qua sopra Poi dall'altra parte La esploriamo Poi Eh però qui devo salire sul tetto Vabbè saliamo Questo potrebbe essere Un'altra sfida parkour Magari Ok E infatti sfida parkour Immaginavo Va bene Ok Le sfide poi le faccio Le faccio tutte in una volta Così E c'è un rifugio Minchia E' un mulino tra l'altro Beh tanto è di strada Quindi finchè siamo di strada Io direi Che le possiamo Sbloccare queste robe Allora lì c'è un Una corrente d'aria Esatto Mulino a vento Di magnolia Vai sali Ah Fa un cur Ok Disattiva Addirittura Io devo fare le Le combinazioni attivate Disattivate Per salire Ah Devo disattivare Devo disattivare Questo Ah ok Vabbè easy Io ora qua la riattivo Per salire di nuovo Giusto? Vabbè Esatto Cazzo sta facendo Ma no Ma perché si è buttato? Ah beh però ho intuito Quello che dovevo fare Allora Prima lo disattivo Quando è verso il basso Così Io posso salirci Da qua È vero Tipo a mezzo Grados Ok Peccato che Io non potevo Creare il personaggio Tipo con la barba Ok Adesso devo andare Di qua E Probabilmente Poi devo andare Anche da quel lato Ah è disattivato Però Perché Ah ecco no Devo fare attiva Perché forse attivo Il montacarichi Questo qua Vero? Sì Esatto Vabbè Easy Dai che ora God of War Esce Ragnarok E ci facciamo Anche Ragnarok OP Ok Qui ai pacificatori A questo punto Dovrebbe esserci Anche il negozio Allora No forse Non c'è il negozio Sì Certo che c'è Invece Uh le prime armi Di livello 6 Minchia 151 Di danno Eh 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 Allora Qui c'è un altro Rifugio Però non è di strada Quindi poi lo faccio Per conto mio Va bene niente Possiamo andare Al luogo della missione Mi sa Perché Non c'è nient'altro Per strada Se c'è qualcosa altro Per strada Lo sblocchiamo Altrimenti Suka Oh Una side quest Vabbè sì Devo salvare il mio ragazzo Va bene Poi la facciamo Le side quest Non mi interessa Leggere la trama Che d'altro Ok Ce l'ho Ce l'ho Il biomarcatore Report To Meyer In dispatch The commander Is on his way Back from the field Does Matt Often go out On field missions Used to be It was hardly ever On the ship I was in the field I was helping That's why I joined the peacekeepers But lately Matt's been acting weird Not sure what that's about Eh vuoi vedere che Matt Eh vuoi vedere che Matt Eh mi sa che forse Matt non è così tanto Coraggioso come dicono Quindi non ce la racconto giusto Certo ironico come la missione principale sia di livello 3 e oggi sia a livello 6 Succede sempre così Succede sempre così They've already attacked Two of our heroes We'll do everything we can to arm you If needed We'll intervene If you could intervene Why'd you leave in the first place This is bullshit Wasn't your father some famous war hero I bet he's rolling over in his grave Watch your mouth civilian Things are tough all over You know that Can I help you Ah you I remember you from the canteen Yeah I guess Ah we said I will look at the fight in the canteen Maybe Don't sweat it You can really hold your own I respect that Aiden right Commander told me to brief you about faction matters Missy Che bello l'effetto della bioggia però È fatto benissimo It pisses me off when people mention my father I don't mean to pry but What's the deal with your father? Ah This again? Since you're new here I'll tell you the short version Classic story Saved a bunch of his fellow soldiers Some civilians And got a medal When was this? Long time ago Back when people were only fighting each other And not each other And infected at the same time So is he why you joined the military? Pretty much You must have been very proud Sure Why not? Uh Who's Missy? It's the name of the ship you're standing in She played a key role during the revolution Missy was meant to deliver drugs Masks And other critical medical supplies Then return home But by then Home was gone She and her crew had nowhere to go And what about now? Now she serves as PK headquarters in Command Central All directives are issued from right here Smart Easier to defend than a building Exactly Where is Matt? In the field He came across a lead in Old Villador You gotta wait See that board? I got plenty that needs doing it Not enough men You want to pick up some of our slack? We pay well Sarebbero sidequests Fuck that's major math Something's happened Make roll Clear the way He's bleeding out Allora si trasforma Ah Hator Take him to the infirmary Summon the medics We have to save him Hang on Hator We won't let you go You hear me? Get moving M***a l'hanno recuperato là sotto Gainer survives We lost too many people in Old Villador Jack will do all he can to find out who did this Eh vabbè ma è responsabile cosa? No questa la voglio seguire La missione di Hator mi interessa Vero ci sono anche i corrieri che dobbiamo Dovremmo conoscere Ah dentro la stazione Corrieri No no questa la facciamo poi perché tanto La stazione La stazione la devo liberare comunque Uuuuh 186 Non posso vendere tipo qualcosa Giusto per farmi avere magari un po' di soldini in più Quanto queste non le uso Anche qua le sono armi livello 6 Le voglio le armi livello 6 Questa addirittura livello 7 Anche armatura livello 7 Madonna addirittura tutto livello 7 qua Eh ma questa minchia è figa 186 però è due mani Vabbè ci sta 186 due mani ci sta Niente non te li posso dare i soldi mi dispiace Allora io sono curioso di vedere Hator come è sopravvissuto più che altro Perché sembrava morto quindi Ah questa è la moglie con i figli Magica cures Listen We don't have medicine Herbs are our only chance My husband has fought for you for years You must get medicine for him Not some herbs that might poison him Time to go kids How is he? Hator is strong But he needs medicine And that unfortunately we don't have We did the best we could with what we have After the chemical attack Some plants gained healing properties They work like an antibiotic But still People here have strong opinions about healers But you can hardly blame them The folk healers give sound advice But it can prove difficult to follow correctly Misremember something Gather the wrong herb Or use the wrong dosage And instead of medicine You administer poison Which has happened plenty Because if somebody messes up One of the steps of the recipe It could kill him Exactly But it's enough to listen carefully To the healers' instructions And follow them The herbalist I know She's talented She's Hator's only hope And what's his wife's problem? Superstitions die hard Margaret has helped many people everywhere Some just don't want to admit it I think I can help You'd be doing us a big favor What happened in old Veldador is terrible We've lost so many people As far as I know Hator is our only witness So if he dies We don't find out what happened there Exactly Where can I find this healer? On Covid Island Don't worry You can trust Margaret Ah Quindi devo andare a trovare ora La tizia dell'herbe Cos'è quella missione? Ah no Queste sono tutte le side quest Famiglia Distallo bianco Ma cos'è c'è da fare? Parla con Jack Matt Ah questa è la missione principale Si Allora qua potrei teletrasportarmi in realtà Però credo che da qui mi sbrigo prima Cioè la distanza mi sembra Abbastanza identica Quindi Che non ha senso teletrasportarsi in questo caso Ah non posso saltare qua Perché è una zona Tipo pacifica Vabbè si vado a piedi Mi sbrigo Ben o male uguale Non c'è bisogno Deletrasportarsi Ok Allora saliamo da qua E andiamo verso E camminiamo tetti tetti Che è una cosa migliore Certo effettivamente salvando Salvando Eitor Si avrà la possibilità di scoprire Cosa è successo nella zona Nella zona degli infetti E vai così C'era una side quest qua Vabbè è un evento Più che altro Non c'ho side quest Questa musica Non mi era mai spuntata Durante l'esplorazione E vedi tipo la Death Stranding Che poi ti mettono le canzoni Mentre Mentre esplori Questa ci stava come cosa Perché non l'hanno fatta qua Cioè c'erano le canzoni Di Death Stranding Che erano un qualcosa Di fenomenale Cioè penso solo Il comparto sonoro Di Di Death Stranding E vale l'acquisto Secondo me Infatti prenderò La director scatto Appena la scontano Ciao Oh la 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 Sì No, non è vero Sì 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 Aspetta ma il canale è questo? Ah sì è questo qua Sì 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 Quindi i fiori tecnicamente devo cercarli qua Bastardo Eh ma sono... No Sì dentro l'area di ricerca quindi è giusta la zona Ah si trovano sott'acqua? Ecco qua per esempio non ci siamo più nell'area di ricerca quindi no A meno che siano sopra addirittura Visto dentro l'area di ricerca quindi... Un tenitore addirittura... Ah no devo andare da questo lato vedi eh Il contenitore... Ah no però già qua è finita l'area di ricerca Ma vuoi vedere che sono veramente sott'acqua? Sott'acqua non siete un cazzo No A parte che mi sto allontanando dal container E in realtà io mi volevo avvicinare al container Qua di livello sei addirittura sono gli zombie Qua di livello sei addirittura sono gli zombie Sono misti ce ne sono di livello sei e di livello tre Lì c'è un urlatore Facciamo attenzione Lo devo prendere alle spalle Niente non commento Vabbè questi livello tre non sono un problema Ah ma il container forse è qua dentro Ah è l'area grea questa No e allora sti cazzi Poi lo prendo Ecco vedi è qua nella zona Nooo Minchia lì c'è l'urlatore aspetta No Mucchia No No Nooo Minchia Ok forse la caccia non è partita No in realtà è partita la caccia Madonna che palle Madonna che palle Madonna che palle Cazzo fanno Ok Scegli quale medicina utilizzare per curare Eitor Quindi devo sceglierla io Ah vabbè Mi date questa responsabilità Vabbè sì che me le ricordo le istruzioni però Ok 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 lì c'è la nave C'è la nave Faccio un urlatore Ecco Non ho visto l'urlatore Vabbè Ma tanto siamo qua quindi sti cazzi Ma non mi inseguono più Ok Ok Allora le erbe piccole curano Cioè le foglie piccole curano Le foglie grandi Avvelenano Cioè Quindi qua tecnicamente io posso decidere se ammazzare o meno Eitor Sì sì infatti Eitor io lo voglio salvare Cioè non è che non lo voglio uccidere Eitor No aspetta qui No aspetta qui Allora sì qua sì ok Eccolo qua Tu è il paziente E' inizio E' inizio Grazie Per la tua assenza Poi Andiamo Guarda Cosa sta succede qui? Erav te l'ai chiesto non? A questa Margaret Però se le dico che sono andato dalla strega Capace che si incazza Però potrei dirle la verità Just calm down What's happening? We're losing him Aiden, give me those herbs I forbid it! Keep that witch's poison away from him! I can give him an injection to stabilize him But it won't last long Did you tell her who the medicine was for? She killed his men! She should have hanged for that, but Jack Mack had ate or burned her eyes out instead What? Did you tell her? She'll have given you poison, I guarantee it! Aiden, give me the herbs, dammit! Chiedo alla One via radio Vediamo che cosa ci dice lei Potrebbe essere vero Che m'ha detto tutto al contrario Quelli piccoli Ok, allora non ci ha preso in giro Ok Quindi, cosa facciamo? Ok Vediamo quelli piccoli Come è? Appena che la medicina è più efficace come ho sperato E di quella pensava che lo stava fregando Invece Abbiamo avuto conferma Certo, anni di medicina bruciati praticamente da un'erba Ottimo Quindi che cazzo sto studiando a fare Matt? What's up? I wanted to officially thank you Aiden's back on his feet Già si è rimesso in cesto It's still being a coma Or worse Glad he's better Me too Only he knows what happened in old Philidor And soon, thanks to you, I'll know as well Ok, jazz è ripreso A posto Va bene, a questo punto allora posso parlare Con lui Con Jack Matt Anche perché le altre side quest non erano particolarmente impegnative Cioè diciamo In una palestra per nottambuli No Ah Una gara di rampini Ah no, questa ancora non la posso fare Perché mi sembri il rampini Trovo il ragazzo smarrito Uccidere i negati Ok, trovo il quartiere generale Dei corrieri Ok, queste le posso fare poi per conto mio Per cui, sì, possiamo andare Possiamo andare avanti Aiden Sì, sai cosa questo? Questi Brass Knuckles Prendivano prima Per il comando Lucas Poi Sono passati a Aitor Che succede in old Philidor? Non può succedere ancora Abbiamo bisogno di salvare la città Aiden Della plaga Della butchera e i suoi men Non mi fido dealui Non mi fido Per la seconda volta, tra l'altro Prendivano che hanno fatto Prendivano esperimenti in loro basi Prendivano in contenere Prendivano di Haran At night In secret From the government And then Everything collapsed In revenge People captured the scientists And hanged them From lampposts And killed The only people Who had a chance Of finding a cure There is no cure Antenna in the center In the center On the VNC tower spire Non mi fido dealui Non mi fido dealui Non mi fido dealui The kept promises Are rare in this city If we don't find any of the GRE scientists I promise I'll get Waltz for you Si, come no Come se fosse facile prendere Waltz Quello ti disintegra Con un pugno Waltz l'ho preso a calcio in culo Perché mi sono trasformato anch'io Ma se lui si trasforma Si disintegra a tutti Anche lui si chiama Jack Tutti Jack si chiamano E' un nome E' un nome famoso Jack Molto Molto conosciuto Molto famoso Allora in teoria A me non mi converrebbe Far ancora Traspassare la noce Mi converrebbe far passare il giorno Solo che non so Ecco Lì è dove c'è il riposo Ok Così Passiamo subito alla mattina E possiamo andare Più tranquillamente Verso quella zona Eh vedi Queste qua sono aumentate di livello Ora sono tutte livello Livello 6 Questo cos'è? Un codice speciale Che ho ricevuto Oh Domatore Ah Queste sono le armi dei drop Forse Il time out Si Grazie ai drop Di twitch Esatto Maschera protettiva Questi sono i bonus Del preordine Che non mi interessano Questi sono Eh vedi Questo qua Madonna mia Questi sono le armi Dei Dei bonus Di twitch Questa la possiamo Modificare Questa no Ok Allora inventario Allora inventario Poi questo è 142 Poi questo è 135 Posso mettere questo Posso mettere questo Questa la possiamo modificare Posso mettere squarcio Qua mettiamo il freeze E qua Eh mi servono i rottami Vabbè Teniamola così Ok Eh Vado al negozio Anche così posso vendere Quelle armi Un po' Distrutte C'è la katana C'è la katana livello 6 La masamune La masamune E non la posso comprare Questa la posso vendere Questa la posso vendere Questa la posso vendere Che già sono 116 Sono da pronto carabinieri Quanti soldi ho 2005 E non ci arrivo No La katana No non è il rampino Non può essere il rampino Una lanterna Così Così Siamo arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati E' una lunga Questa Che vuoi sapere? Dicami più A questa Stazione radio Nella torre È il più alto Stazione In Villedor È una volta Un simbolo Di grandezza E ora Forse è quella torre Che non potevo sbloccare E ora Me la sblocca C'era una torre Che io Mentre stavo esplorando Non potevo Non potevo Sbloccare E mi sa Che è questa Quindi ci devo andare Di notte Wait Wiped out? You mean Every last night runner? That's the problem Frank Had it all Carefully planned But for his plan To have worked He needed everyone All hands on deck And that didn't happen? Not everyone Believed in the plan So there was a rift Frank thought They'd come around in time But not everyone Came around After all And the plan Went to shit E dirgli Che il suo piano Lo porterò a termine io And the night runners Screams on the radio That night Still have nightmares About it What happened To the group That refused To join the mission Split up Drifted apart Whoever led The descent Was branded a traitor And the night runners Faded into a Shameful memory After that We shouldn't waste Time on the past We need our heads In the game Here and now Okay Let's get going Are the lights in place? They would be If Juan from supplies Would just do his job For once I take it that he didn't He's been playing hide and seek The last few days And he's late Getting on my nerves So look in on Juan first See what his deal is And when you do find him Kick him in the ass Tell him it's from me Okay Torcia Ah ma è un progetto È un progetto La torcia Però aspetta Nuovo attrezzo Dei nottamboli Torcia UV Hai ricevuto Una torcia UV Ti permette di respingere Indebolire tutti gli infetti Soprattutto i virali E notturni Per usare la torcia UV Equipaggela con il tasto sinistro E tieni premuto L2 per usarla Ti tocchi il livello di carica Della torcia Quando arrivi a zero Dovrai aspettare Che si ricarichi Ah ok Quindi è un oggetto Permanente Ecco vedi Però Si deve ricaricare Quindi se vado su Ecco vedi Oggetto dei nottamboli Però lo posso migliorare Perché vedi È una di tre Il parapendiolo L'ho migliorato al massimo Già E questo lo posso migliorare Quindi dov'è il Craftman Ecco qua sotto Vediamo se possiamo Già migliorare Qualche livello Del Potrebbe essere interessante Ecco Workshops Allora fammi vedere Se si può migliorare Dov'è Oh Ah potenzia Ok Questo cos'è Torcia UV Si Tecnologia militare Olè Però mi serve Altra tecnologia militare Ah quindi è come Il parapendio Che si sviluppa Con l'energia Ok vabbè Ci sta È di livello 2 A posto E tra l'altro Vuole anche Mille monete d'oro Eh i power up Sono molto dispendiosi Però non vedo l'ora Di potenziare il rampino Minchia il rampino Devo potenziare Tu sai che non pagano Overtime Qui Certo? Non mi Guarda Juan Reiner Non sembra essere In un'espedale È urgente Il comandante mi ha No è la Masamune Non la possiamo comprare Costa 3000 Ah questa è francesina Alla è un buonio Nooo Non mi soge Conciente con la piccola piccola, i sensi di come ancora. Gli piace rendersi assicurato, probabilmente scavando sull'aereo Questa cantea? I bambini anche avevano la mia tavola Bribano il cuore per portare gli prodotti off-menu Il vive come il fallo che non ha mai avuto Guardo lui lì Buona lucka trovandolo E buona lucka se lo trovi Ah no, qua sono salito troppo in alto Quindi al Fish Eye devo tornare Aspetta ma al Fish Eye non c'ho il teleport lì vicino? Ah no, non l'ho sbloccato C'è la stazione ma non l'ho sbloccata Perché giustamente siamo in live e quindi non l'ho fatta Ma qua c'è anche una side quest Mi segnala una side quest? Ma forse devo uscire prima Noi vedi sbloccare la stazione sarebbe stato intelligente però Vabbè Allora, devo uscire da qua, devo vedere dove sta side quest Così la prendo Ok Ma è di qua C'è dentro Cioè è qui dentro Ed è verso il basso addirittura Allora Noi vedi E' un'altra side 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 Ma come si può vedere dov'è la site questo che brutta sta mappa fatta così è dalla parte esterna qua dove siamo è tipo dal lato questo qua sinistro ma non mi fanno perdere tempo poi non si vede la mappa c'è dentro il rifugio non si vede la mappa e tu mi metti una side quest dentro dentro il rifugio dove non la posso andare a guardare non la posso cercare così cioè ma veramente cioè io dico come come fai a fare una cosa del genere nel 2022 cioè come fai a progettarla così male cioè progettarlo così male nel 2022 è uno scandalo è uno scandalo letteralmente uno scandalo cioè non mi appare nella mappa non mi appare mi appare soltanto qua e non nella mappa questa qui eh dimmi dici di qua devo andare sempre dritto da questo lato c'è veramente è scandaloso ecco vedi da qua ora mi appare 12 metri qua sotto e di ora sta apparendo ora che l'ho trovata mi appare ecco vedi www.mesmerism.info I'm sorry it turned out that way Sorry? What do we do with your sorry? What do you mean, what? Joe, you dumbass The Pilgrim can still save us Actually, how did you get here? Funny story Not to everyone So they lead us to the bazaar Probably to hang us We enter a narrow street I sense an opportunity I hit one on the head The other on the balls And walk Meanwhile, Joe got stabbed in the butt with a pitchfork Couldn't sit for three days I told you, shut your mouth Okay, don't be such a delicate China We went through the tunnel to the center You know, with all the different perspectives and possibilities there And what do we see? PK corpses Man, there were so many of them Yeah, the divisa Let's take the uniforms and put them on So we can blend in with the crowd And suddenly, one corpse starts to move I look at it And it's Ator Boy, did I start to run That's when the blue boys grabbed us And said they wouldn't let it slide We were caught in the wrong place at the wrong time As usual Our fucking luck What's it gonna be? Will you help? How could I save you? We're dehydrated as hell in here They won't give us anything to drink Well, I can take it But Joe? Help ease my friend's suffering Be human I'm guessing this isn't about clean water We're urining for moonshine Killian Oh, Killian ran the best We had this bottle saved for a rainy day Yep Killian's legendary moonshine The gas-drip butterfly You wouldn't bring it to us, huh? You want me to run for booze? Aiden Be human, Pilgrim I am And you You got what you deserved I said he was a dickhead Be quiet, Joe It is human to err And divine to forgive I admit we've gone astray But we are changed people Please Bring the moonshine To ease the nerves Of the condemned Waiting to be hung It's not some ordinary moonshine It's Killian's Legendary moonshine The gas-tripped butterfly This could be the last drink In Joe's lousy life Yeah My fucking life What's it gonna be? Will you help? Fine then Where is this moonshine? It's in a safe In a water tower In Old Villador The code to the safe is 14 14, 8 No, not 8 I think 9 What the hell, Jack? The code is the year America was discovered 1492 Take it easy 1492 Just as we discovered Killian's moonshine Someone once discovered America Va bene, easy Oh Ok You'll definitely handle it, Aiden Ok The year of the discovery of America I'll remember Just hurry up, will you? Who knows what time Our farewell party has been scheduled for? Va bene Questa poi la faccio Anche perché poi devo sbloccare il teleport Quindi per ora non la faccio Prima devo sbloccare il teleport lì al fisheye Poi 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 ovviamente posso fare tutto quello che vuoi C'è un'altra side quest che mi appare Un gruppo di lettura Missione secondaria Ah quindi non era quella C'è un'altra missione No Non ci credo Scusa E dove Dove sarebbe sta missione Ma comunque Allucinante Cioè devo orientarmi Praticamente Con questa mappa Lower deck Non so se è di qua Ah a parte che qua c'è il teleport No Mi pensavo Ah no era la freccia che lampeggiava No c'è il teleport veramente Sì c'è il teleport qua Figo Però devo scoprire prima dove è quella missione No vabbè comunque è scandaloso che No non si veda la missione Allora da qua che si vede Ecco Ora non si vede più Io non vorrei che sia una di queste missioni appese Praticamente qua Però non credo Perché non ce n'è Cioè non mi fa accedere a quel A quel cosa Ciao Francesco Buonanotte Vedi è qua praticamente Cioè ci sono Sopra sotto Non lo so dove sono Sarà qua sto mondo È gruppo di lettura Sì 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 va bene Ciao Ecco Ma vaffanculo Guarda dove è buttato sto Panissione Manco si vede Veramente questo è da pronto carabinieri Cioè che Che peraltro non si vede Neanche nella mappa Cioè non si vede Neanche nella mappa Non si vede Neanche nella mappa Ok Queste sono tutte side Queste che poi Mi posso fare io Per i fatti miei Almeno ho qualcosa da fare Allora devo andare al fish eye adesso Quindi Eh minchia la strada è abbastanza Qua ci sono i libri che devo trovare Però No li faccio poi Non li faccio adesso Anche perché è mezzanotte Quindi in realtà Farò un po' stacco però Prima voglio vedere se Se sblocco almeno il rampino Non credo di sbloccarlo adesso Perché mi sembra Mi sembra un po' prematuro Anche se però già la prima Che già ho ricevuto la lampada UV Quindi Teoricamente sto sbloccando anche l'equipaggiamento Dei nottambuli Per cui effettivamente Potrei averlo No Minchia sono caduto Ste cadute random Un'occhia come le odio Addirittura un contenitore Il rifugio dov'è? Da questo lato Eh minchia Ci fa Io dico Allora Il rifugio È da questo lato Eccolo là Ok Qua azioniamo C'era 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 un altro punto interrogativo Qua Questa cosa è una sfida Ma perché mi stanno attaccando I pacificatori che mi attaccano Ma perché mi attaccano? Mi sa che non sono pacificatori questi È un po' È un po' È un po' È un po' Bello! E' quello che fa qui? Bello! Bello! Voi! 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 Attacca! 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 Voi! Vedi qui c'è una sfida. E questi qua non mi attaccano. Eh ma qua però? Vabbè facciamola perché sennò non me la sblocca. Oh! Voi! Sì. Ma non posso curarmi? Cioè sono a metà... Cioè ero già morto praticamente Cioè mi hanno fatto fare la missione e ero già morto? Ma che cazzate è? Cioè ma che missione era? Ero già morto scusami Oh veramente ci sono determinate cose che io non le riesco a capire di sto gioco Cioè ero già morto Cioè ero già morto Oh mio fraccio Grazie a tutti. Vabbè, qua poi me la devo fare con calma, ho capito? Perché qua devo attivare tutte le trappole, questa è una fatta apposta. Vabbè. Vabbè, l'importante è che poi ce l'ho qui. Niente, dobbiamo andare di qua, dritto. Ma quindi è diventato notte per niente, per dire. Qui c'è un'altra side quest. Vediamo adesso dove è quest'altra side quest. Vabbè, vabbè. Allora. 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 Questo da trovare è là sopra, luogo sconosciuto. Niente, non me lo fa vedere. La side quest, in teoria, è qua. Solo che qua non me lo fa neanche vedere nella mappa. Boh, non lo so. Veramente, sto gioco... Bello tutto quello che vuoi, ma ha dei difetti allucinanti. Cioè, la side quest è che qua mi appare... E non mi appare nella mappa. Cioè, completamente senza senso. Cioè, ho pensato... Cioè, cosa direi di questo? Inhibitor container dettagli. Qui c'è addirittura un container, ma... Ok. Questa è una sfida parkour. Ok. E qui c'è... Un container. E' qua sotto. Ma... E' un complesso GRE? No, non sembra. No, è qua. Ok. Ok. Vabbè. Ok. Vabbè. Ora qui ci sarebbe una side quest, solo che non me la fa vedere. Niente, ho un zero. Non me la fa vedere. Non me la fa vedere. Ma... Ma magari è qua dentro, ma... Ma... Non me la fa vedere. Ma... Non me la fa vedere. Non me la fa vedere. Veramente sta cosa... Non mi da pace. Hai parlato con i peacekeepers, Paul? O la hill? Oh... Guardian. If you hadn't help with the reneg... Ha... Hey... I'm the ha... Tell me... Frank says women like her would give Bloody Mary. Lawan is hot shit. Cross her once and... Not all military buds, well. A special force is quite the high rank until one mission. He li... After that... He took out a... But he became a haunted man. From... I've seen him on a bender. Then imagine what... So... The fisheye? Two days and the peacekeepers were taken... And... Even bad has come here just to hash. Anyone can relax without the... I gotta go. Wait. And now when I do that... It's a simple job. There's a metro station under the fisheye. Ah... Used to be UV lamps in the metro that kept the... But they stopped working because every tunnel and state... So... Yeah... Get to the electrical room. If so, you could just reset the main... Before you go, got a little sum... A house specialty. Guaranteed to warm those spiders' bellies. Just a bit of house food. A bottle and an old rag. But... Or you can always just sneak in past the spider. Once you turn on the UVs, they'll fro... Alright. Ecco, vedi, nuova missione secondaria. Ratti in casa. E allora era questa la side quest. I remember to go there after dark. During the day it's filled with nasties. Yeah, thanks. One Rainer? You lost, man? We didn't call for a waiter. I've got orders to find you. From Meyer and the Commander. And my name's... I know who you are, Aiden. After that bang up with the renegades... Half the canteen wants to name their most precious offspring after you. Including Vinnie here. But... You interrupted our meal. State your purpose in one sentence, then... Please... Make yourself scarce. Oh, you know perfectly well why I'm here. The UV lamps. Meyer says you owe the peacekeepers a delivery. And you think your barking will make an impression on me? The Lummox in Chief Jack thinks he can scent his terrier... And everyone will wet themselves in terror. But what can I expect? He can't tell the difference between champagne in a crystal chalice... Or water from a dog's bowl. He hasn't announced a refinement. Isn't that right, Vinnie? I don't know. Don't be afraid. It's not like Jack is gonna march in and have you hanged. At least not now. Uh... Ah... Ah, Vinnie. When will you grow a spine? You want my attention, Aiden? Show me you deserve it. What can you offer me? Look, I could help you out as easily as I'm trying to help Matt. I don't doubt that. I've heard you were a pilgrim. But you're new here. Smashing the skulls of a few peasants doesn't mean everyone wants to lift you up on their backs. You have to be more subtle with people. Everyone has their own desire, their own price. Your pitch just isn't working for me quite yet. Try again. Mm-hmm. How about a court-martial? Matt can do that, right? A court-martial? You have no idea who you're talking to, do you? Who would hash out the contracts with the suppliers? Who would feed the army? Provided with weapons and clothing? A week without me? And the peacekeepers will be left with nothing. Supplier is everything. Try again, man. And don't improv this time. I'm... I'm... You've used up all your time. Didn't pique my interest. But what is it you want, Juan? Like they used to say, if you gotta ask the price, you can't afford it. Returning to more pressing matters. Ann? What should we try next? Did you make headway with the pompous ass? Never met a guy quite like him before. I told you. Come see me back at my place. We'll talk. Even a drop of Pinot. Maybe some fruit. And sweet orange juice. Vabbè, secondo me qualsiasi cosa avrei scelto a sto punto non andava bene. Fatto appositamente per... Per farti sviluppare la trama con... In quest'altro modo. Let me guess. He scarfed down five courses and had a hot young woman at his side. A young man, but the rest is accurate. He's a piece of work, all right. Well, I need him to get back to work. Jack needs UV lamps and Juan's dragging his feet. Hmm. That'll be tough. Juan barely listens to Jack, so he'll be an even tougher audience for you. He has his own men and power base, and he loves rubbing Jack's nose in that. And what can I do about that? Same as everyone else. Bribe him. He likes fine art, antiques, expensive shit from before the fall. When he sees something that used to be valuable, he can't stop himself. Zero self-control. Hmm. Where can I find something like that? I heard of an old Polish guy who lived in a penthouse by Liberation Passage. They say he was an art collector. You can try his place. You can only get there via Paraglider. That's why there's a chance something's left. I'll be on the radio and guide you to him. What about you, huh? Going on a hunt? No. A party. It's Danier's birthday. But you never know when a guest list will overlap with a hit list. Why don't you come and have a drink with us when you're done with one? I don't think Danier likes me. Haha. He doesn't like anybody. We'll be in touch. Okay. Quindi dobbiamo andare verso quella zona. Vedi qua ci sono tutti i suoi... Tutti i suoi tizi. Vedi qua c'è Coso. Che è Sin City? Sin City Map. Ehm. Flood. Va bene. E allora direi che sono quanto è me 20. Vediamo quanto è lontano. Ah qua possiamo fare il teleport. Visto che possiamo fare il teleport. E allora direi che posso andare qua. Faccio passare il giorno. Ah non dovrei perdere troppo tempo. Perché volevo prendere le sculture. Portarle e poi staccare. In modo tale che poi la prossima volta. Posso fare direttamente il... Cioè posso fare direttamente la parte... La parte con... Cioè la parte della stazione radio praticamente. Allora ha detto che ci si può andare soltanto col parapendio giusto? Quindi devo trovare delle correnti d'aria. Tecnicamente giusto? No. Ecco qua ce n'è una. Iniziamo a sfruttarla. Beh ecco da qua ci si può andare. è di dobbiamo andare là però non ci sono non ci sono correnti che mi portano fino a là cioè a me quasi quasi verrebbe da fare il giro per andare là che sono più alto e arrampicarmi a meno che non riesco a vedere io magari qualche corrente d'aria no queste sono le cose nel centro levati dalle palle ecco ecco eh vedi là ci sono le correnti quindi mi sa che devo andare di là ok aspetta quella se mi ha detto ci posso andare solo tramite parapendio quindi ci sarà un motivo ok ok Che cazzo fa? Esatto bello qua carino vedi qui c'era l'elicottero allora intanto ho preso un punto abilità col parkour quindi ah due ne ho addirittura cioè col parkour praticamente sto facendo tutto scusa ma non mi fa entrare allora non devo andare di qua ecco qua c'è ok luon there's nothing left in here daniel said it's a virgin spot ok keep looking Allora No, la zona, ah da qua posso salire Mi dispiace, dopo tutto sembra che non ci sia posto per te sull'elicottero Non preoccuparti, ne invierò un altro Dovevo prima mettere in salvo la collezione Con affetto Questa è la porta di prima E perché da qua si sblocca e dall'altro lato no? Voce message from 5.36 PM Mr. Burkowski, your transport is en route to you The art collection should be on the roof already Soon as the chopper is over the city, we'll call again Luan, I think I found a stash A helicopter was coming for this guy And they sent everything to the roof I'm headed there to look Good luck E dovrebbe essere questa? Oh, ora è questa Infatti Oh, fuck There aren't any paintings left Everything's been destroyed Hey, Luan Found our collector But no sign of his collection Luan? Hey, you there? Jesus, Aiden I told you I was leaving Okay, quick thing Nothing here except for a bottle of whiskey And one of vodka At least the whiskey's the good stuff Juan likes a good whiskey Maybe if you get him shit-faced He'll loosen up So to speak So you still in the canteen? I saw him leaving Seemed to be heading back to the ship Probably to his quarters Okay I'll go there And listen That vodka Daniel is a big fan If you plan to drop by Which you probably aren't But if you really want to get to know this city This is the way Just saying Okay Quindi adesso ho due obiettivi Uno è la nave E l'altro è il fisheye Per conoscere meglio Daniel Giusto? Ovviamente qua il teleport Non me lo fa fare Perché il teleport Sarebbe qui Vabbè Ci andiamo Ci andremo a piedi Amen Almeno per ora Allora La festa di Denior È opzionale Però io la voglio fare Ci voglio andare lo stesso Potrebbe essere interessante Il problema Il problema Il problema Il problema Non era così lontano. Pensavo peggio. Non era così lontano. E' uno scommesso che tipo non ci sarebbe andato. E' uno scommesso. 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 Non tutti sono come tu, Rho Ok, è il tuo turno Voglio sentire che tu giochi F*** off Wait, what do you mean I'll drink Forget about it You play un instrument Non so, non so I drank, moving on She used to play the ukulele Really? Guys, moving on Aiden You play for Rho And I dare you To ask Rho to sing It's Awful Vabbè, però di cantare in realtà non mi interessa Truth I look at you and I wonder Who were you before all this? Good call We really didn't want to hear him sing Believe me Who was Rho before he became a tough-as-nails peacekeeper A father And a husband You were a father? I lost my kids at the beginning of all this I, uh I tried to save him I almost did But At the end I was the only one who survived Now I'm alive With regrets How, how did they Infected? Worse People A group of raiders Typical bandits of the time Tried to take our food I wasn't going to stand idle and give up everything we had I had to defend my family I was proud Stupid Outnumbered I didn't For the follow-up Ah, and bevono lo stesso Eventualmente Perché? Enough of this Anything you want to ask the master assassin here? I always wondered about that hit list Shut up bro It's not your turn Cosa hai fatto dopo che si fu uccida da Waltz? In realtà non mi interessa più di tanto Questo mi interessa Ah, yeah The hit list How did it start? With a bastard who had to pay for what he did Started with one Then there was another one And then a whole bunch of them But who was the first one? That's another question Drink No He's just making you answer the first one Who cares what he asked? It started way before that When I escaped from Waltz Frank helped me He showed me that there's something else I can do with all my anger Back then I thought I'd join them Be a night runner someday Who was I kidding? They were wiped out at the VNC tower Frank lost almost everyone Night runners fell Frank started to drink Gave up on life On himself So I'm not a night runner But at least I have my list Good night And then I ask the wrong question That's the beauty of this game Pilgrim Sooner or later You get to the wrong question I'll see you soon I guess Tu non mi dici nulla? Here you are Thank you Thank you for the vodka Thank you Let's drink For me And another year in this Shit hole You're not the worst You know Why are you finally warming up to me? Nah It just means there are worse assholes And that I'm drunk Where's Levon? I saw her with you Now we played the game And I asked the wrong question How the hit list started? Gajo, Gajo You got her thinking about the past Listen And I'm not telling you this Because I like you I don't even fucking know Why I am telling you this But never Never ask Levon about her past You get it? Good Now get lost It's my birthday Ok Quindi Mai ricordare il passato Alla One Va bene Forse si potevano fare qualche Forse si poteva fare qualche domanda in più Magari se Va bene a questo punto Oddio che ore sono? Ciao dragons Eh sono già mezzanotte e venti Eh luna meno venti Allora è vero che qui ci posso andare col teleport Perché c'è il teleport sbloccato Quindi Ok Qua possiamo sbrigarci Va bene dai Gli consegno sta cosa Vediamo che il dialogo Poi dopodiché Dopodiché Si stacca dai Se no poi è troppo tardi Non va bene Si che domani è sabato Quindi Però Meglio fare le cose bene Non Così vediamo cosa mi dice Ok Ok Alla He is a snack, isn't he, dear? Care to join? More the merrier No, thank you Oh, have I embarrassed you? I'm sorry, I do have that effect on people I'll wait for you, but to make it quick I must admit, I admire your persistence I'm almost curious what you do after I send you packing Yet again You'll regret it Ooh 16-year-old Highland single malt Modeled the year before the pandemic broke out I've read that one barrel of this stuff sold at auction for over half a million dollars What a sublime present To your health, handsome What can I say? You broke down my defenses So, you're still after those lamps Did Matt tell you why he wanted them? And why he really wanted them? Yeah, to take control of the TV tower Wait, he's serious? Is he crazy? Nobody tried that for over a decade Vabbè, il perché è pericoloso lo so già Matt wants to prepare to defend the city from the butcher's coming attack So, we should start building him a monument, right? Only problem? The butcher isn't planning any attack How do you know? I have my spies Among the renegades as well Since the end of the war we have occupied the city center While the colonel squats in the dam One push of a lever And half the city will find itself under toxic water The colonel is not stupid He knows war would be the end of everything So why did the butcher attack the canteen? That's in the city center Good question Maybe It wasn't the colonel who gave the order Something more is going on C'è qualche alleanza nascosta tra Waltz e qualcuno Tra Waltz e forse Jack Matt a sto punto What about the UV lamps? Why does he want them then? Jack is hiding something For a while now he's been ordering way more lamps than he could possibly need And then some of those lamps always disappear No accounting for them once we deliver Why would Jack skim UV lamps? And here friend The mystery takes flight Jack never got over the fact That he didn't defeat the butcher Back when he had the chance Years ago He knew That if he attacked the dam The colonel would close the floodgates And the rising water levels Would push the chemicals up out of the ground Burning through everything that lives in this city And it's been a stalemate for over 10 years Each waiting for the other To make a move But then Someone turned the power on And something changed And the renegades attacked the canteen Ma la centrale l'ho riattivata io sotto il comando dei I'm not here for my health, Juan I need the lamps to find out what happened to your sister Right, Aiden? I told you I got my spies Might be able to find something out about Waltz and your sister Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact I'd even say with my resources I can find this person faster than Matt I actually doubt he's able to find them at all Eh Let's help each other Smart man, Aiden Barely in town a minute And you've picked the right side already I'll give you the lamps That'll keep Matt from getting suspicious But then Go to the cathedral There's a guy hiding out there Total nut job But a tech savant Get him to fix this old piece of spy tech If we get it working We can bug the transmitter Jack wants to place on top of the VNC spire Have him do his thing By tapping Matt's comms we'll find out what he's doing with the extra lamps Questa potrebbe essere una cosa interessante Uh, visto, l'ho detto Effettivamente Jack Jack è particolare Perché È molto particolare Quindi addirittura posso fare il Perry alle frecce e che le posso rispedire indietro Fenomenale Ok Quindi adesso il problema è andare lì alla cattedrale Va bene Allora a questo punto Io direi che qui Sì Qui adesso possiamo Possiamo staccare Perché Perché Adesso io mi faccio nel frattempo tutta Mi faccio praticamente tutte le missioni secondarie Ovviamente non ora ma domani Possibilmente Faccio anche un po' di esplorazione Un pochettino Faccio un po' di moto E hanno conquistato anche questa zona Cioè i rinnegati stanno conquistando tutto Allucinante sta roba Ci hanno preso tre territori Prima questi qua erano dei Dei sopravvissuti Ora invece Invece questo è diventato terra di nessuno Qua non c'è nessuno che comanda Unchia Eh la situazione si sta facendo un po' Un po' particolare Va bene Niente Detto questo Io stacco E vi do La buonanotte E ovviamente con Dile Light Poi ci rivediamo direttamente la prossima settimana Per continuare la storia Così io Io sabato e domenica Tecnicamente che mi faccio Tutte le side quest E faccio tutto quello che posso fare E poi lunedì Siamo nuovamente a pari E continuiamo E continuiamo ovviamente ad andare avanti E c'è un luogo nascosto Guarda Ah questa è tutta la zona Quella del Sì della fabbrica automobilistica Va bene Dai Signori Grazie ancora E alla prossima Bye 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 Grazie a tutti Ciao a tutti